Il presepe di San Silvestro a Pescara è firmato da Giuseppe Di Lissio che abbiamo qui presente per parlare di una tradizione che si rinnova da 40 anni a questa parte. Intanto com'è nata l'idea di realizzare il presepe qui a San Silvestro? Io sono stato, prima abitavo a centrale a Pescara, da oltre 40 anni sono tornato su avendo lo spazio disponibile sono stato sempre attratto dai presepi e piano piano ho cominciato prima piccolino in una stanzina, dopo piano piano ho realizzato questo presepi di oltre 200 metri quadri e lo faccio con tanta soddisfazione e con tanto amore perché dobbiamo lasciare ai giovani, ai ragazzi qualcosa di bello, di sano che rispecchia la nostra tradizione, la nostra cultura. Non ha trascurato nessuna particolare, ma c'è qualcosa a cui si è ispirato? Ma non è ispirato, io giustamente essendo un cattolico noi dobbiamo considerare che il Natale è la religione più sentita anche da parte di altre chiese protestanti, da tutte le altre chiese, quindi praticamente abbraccio un po' tutte le culture mondiali. Tanto è vero che mia sorella aveva nel diretto delle bambolette abbandonate, allora io per onorare la donna ho cercato di prendere queste bambolette e ci ho realizzato un piccolo presepe concernente tutte le donne del mondo, tutti i costumi delle donne del mondo che vertono verso l'immagine di Gesù, il nostro Signore. È un'opera mia, una mia creatura che preferisco sempre farlo da solo, forse pure contro la volontà dei miei figli, di mia moglie eccetera, che loro dicono anzi pure quest'anno lo devi fare. Per me, in cuor mio, mi sento di realizzarlo per lasciare ai posteri qualcosa di bello e di sano.